Buonasera a tutti voi che ci state ascoltando e buonasera a Simone Valente, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura e la Camera. Benvenuto onorevole. Buonasera a tutti, grazie. Allora con l'onorevole Valente parliamo della riforma della scuola, una riforma che nel corso del fine settimana la Commissione Cultura di Montecitorio ha terminato di esaminare. Ora tra qualche giorno tocca quindi all'aula e prima di tutto onorevole Valente è una questione di metodo. Perché non avete partecipato ai lavori della Commissione? Perché sostanzialmente il dibattito è stato soffocato, ricordiamo la tagliola al numero di emendamenti, noi siamo passati da 700 emendamenti a poco più di 90, i tempi di discussione sono stati contingentati quindi ridotti per cui non c'è stata possibilità assolutamente di modificare e di discutere questo testo. Bene, adesso andiamo nel merito delle novità in particolare di quelle inserite in Commissione. La principale è che saranno assunti anche gli insegnanti idonei del concorso 2012. circa 5.000 se non sbaglio onorevole. Voi che cosa ne pensate di questo punto? Noi condividiamo questa scelta perché è una battaglia che portiamo avanti fin dal inizio. Abbiamo depositato degli emendamenti che sono il frutto di un confronto con la categoria e anche con le audizioni che si sono svolte in Commissione Settima. La Commissione ha anche deciso che tutti i precari rimanenti, vale a dire quelli che non saranno assorbiti dalle assunzioni previste in questa legge, potranno fare dei concorsi con un punteggio che terrà conto del lavoro svolto. Ecco, è un compromesso accettabile per voi? Non è un compromesso accettabile perché molti precari rimarranno fuori da questo inserimento, penso alla seconda fascia. Anche parte delle GAE rimarranno fuori, per cui si ripresenterà la scuola diretta supplentita, quella che Renzi diceva di combattere, a settembre con 50-60.000 cattedre vacanti disponibili. È stato attenuato il potere dei presidi, era questa una richiesta che veniva praticamente da tutto il mondo della scuola, raccolto anche da voi. Questa attenuazione che soprattutto rientra nella definizione dei bonus per i docenti, vi soddisfa? Non ci soddisfa perché ci sarà una persona al comando, un dirigente che potrà decidere se aumentare o abbassare lo stipendio a un docente, potrà decidere sulla didattica, potrà chiamare direttamente un insegnante. Questa scelta non la condividiamo anche perché ci chiediamo chi valuterà il dirigente scolastico. Ecco, anche questo però se non sbaglio è previsto dalla riforma, cioè una forma di valutazione del dirigente scolastico, o anche questo è insufficiente per voi? Questa è stata inserita sotto forma di delega nel testo di legge, noi contestiamo questa scelta di delegare il governo perché in sostanza è una delega in bianco e non sappiamo cosa il governo scriverà nei decreti attuativi. Proprio le deleghe sono diminuite, mi pare che 3 o 4 sono state spunte nel corso del lavoro in Commissione, rimangono comunque troppe quelle che ci sono? Rimangono troppe su temi fondamentali, io penso al sostegno, un'altra delega in bianca sul sostegno, un tema così importante su cui la Commissione dovrebbe dibattere per molto tempo. Senta, non è tanto chiaro la questione del 5 per 1000 perché è stato previsto un aumento dei fondi del 5 per 1000, ma non è tanto chiaro se questi fondi sono già a disposizione della scuola e cambiano solo modo di essere considerati oppure no. Lei sa dirci qualcosa di più? Il 5 per 1000 in sostanza andrà a creare scuole di serie A e di serie B, il cittadino in fase di dichiarazione di redditi potrà decidere a che singolo istituto devolvere questo 5 per 1000, per cui sappiamo che in zone più agiate sicuramente ci saranno più fondi, in zone meno agiate ce ne saranno di meno, quindi è un problema che sarà sicuramente grande. Va bene, grazie allora onorevole Valente per la sua partecipazione.